E' da più di 30 anni che la Herbalife è un pioniere, leader della nutrizione. Per avere i prodotti migliori dobbiamo poter rispondere a queste domande. Gli ingredienti nel prodotto sono buoni per me? Gli ingredienti elencati su questa etichetta nella confezione? Sapete dove vengono questi ingredienti? Voi e i vostri clienti potete essere sicuri della qualità, sicurezza e benefici dei prodotti Herbalife. Diamo un'occhiata adesso all'etichetta, a quello che c'è dietro l'etichetta. Abbiamo investito milioni di dollari in persone, processi, strutture e tecnologia per garantirvi la scienza migliore, la massima qualità per la nostra iniziativa dal seme alla tavola. La nostra leadership scientifica è composta da esperti nel settore di tutto il mondo, compreso il direttore scientifico Steve Henning, il vicepresidente di educazione nutrizionale, il dottor Luigi Gratton, e esperti di fama mondiale come il dottor David Heber, il premio Nobel Lou Ignarro, l'esperto di invecchiamento dottor Gary Small e il dottor John Heiss, che si occupa dei prodotti per la nutrizione sportiva. Per sviluppare nuovi prodotti, il nostro team comincia dalla buona nutrizione, dagli ingredienti che danno il giusto equilibrio di nutrienti. I benefici di ogni ingrediente usato nei prodotti Herbalife sono corroborati da prove scientifiche, ed è così che sappiamo che quello che c'è nel flacone è buono per voi. Negli ultimi anni l'industria degli integratori è diventata più regolamentata. Il dottor Bill Frankos, senior vicepresident scienza prodotti globali, ci aiuta ad assicurare che noi rispettiamo le linee guida per i nostri prodotti in tutto il mondo, e fa sì che tutti i nostri prodotti sono sicuri. Per rispettare le normative di produzione, noi creiamo tutti i nostri prodotti seguendo le buone pratiche di produzione, le GMP. Gli Stati Uniti hanno la normativa in materia più rigorosa, e quindi noi produciamo tutti i nostri prodotti in base a questo standard. Per soddisfare questi criteri, Herbalife prende in esame tutti gli ingredienti per essere sicuri che siano sicuri, e vogliamo assicurare che il livello di ingredienti diano i benefici elencati nell'etichetta. Vengono utilizzati circa 150 ingredienti botanici nei nostri prodotti, e ci vuole un anno e mezzo per poter valutare i fornitori di ingredienti, e noi abbiamo delle specifiche molto rigorose, e che devono rispettare più avanti a far parte della famiglia Herbalife. I nuovi prodotti Herbalife devono anche essere sottoposti a mesi di test di stabilità. Dopo la produzione, la Herbalife controlla l'ambiente a cui vengono esposti i prodotti finiti. Abbiamo investito tantissimo in un programma di monitoraggio della temperatura all'avanguardia, che controlla l'ambiente dove i prodotti vengono conservati prima della distribuzione. I prodotti vengono anche monitorati durante la consegna. Il nostro sistema di controllo post-mercato segue da vicino la qualità dei nostri prodotti, e fino a poco tempo fa questo sistema sofisticato non veniva utilizzato da una società che produce integratori. Visto che abbiamo questo impegno alla qualità, abbiamo questo nuovo livello di monitoraggio della sicurezza, stiamo alzando gli standard di eccellenza nel settore. Uno dei prodotti più importanti è sapere dove vengono gli ingredienti, e cominciamo identificando dove vengono coltivati gli ingredienti. Abbiamo degli accordi strategici con delle aziende agricole a Unan in Cina, con altre province. Dai campi da tè in Cina, dai campi di aloe in Messico, dai campi di semi di soia negli Stati Uniti, noi sappiamo come questi prodotti vengono coltivati, raccolti e trattati. Siamo più forti e siamo più competitivi del passato. Nei prossimi anni continueremo ad investire in strutture di produzione e di innovazione, come l'impianto di estrazione botanica a Changsha in Cina, e le strutture di produzione a Lake Forest in California e a Sulzo in Cina. Noi conduciamo studi clinici sui nostri prodotti presso l'università di tutto il mondo. Dopo che i prodotti sono sul mercato, il dottor Luigi Gratton e i membri del nostro comitato consultivo per l'utilizzazione aiutano i nostri distributori sui benefici e gli impieghi dei nostri prodotti. Gli ingredienti nel prodotto sono buoni per me? Sì. Tutti gli ingredienti rancati in questa etichetta si trovano veramente nella confezione? Sì. Sapete dove vengono questi ingredienti? Sì. Herbalife è la migliore azienda e questo è il momento migliore per far parte di Herbalife. Ogni parte di questo processo è garantito dalla qualità. Questa è la nostra promessa a voi distributori, è la promessa che potete fare ai vostri clienti. a voi distributori,